se nessuno la tocca va verso la porta e il portiere è rimasto ingannato sorpresa Rino Gattuso rivediamo qui certo che il movimento è sbagliato vanno sul quadrone sia Cudrone o meglio solo Cudrone perché Andresiva è indietro e infatti non la tocca Cudrone c'è andato anche Buonaventura però Cudrone prova a mettere la puntata del piede forse ingannato proprio dal movimento degli attaccanti Silvestri? beh sicuramente sì però i compagni sanno non ho le qualità di Suso esce dal dribb il sano che ti mette questa paletta